Ciao ragazzi e benvenuti in questioni, sono Frecciapotente e oggi facciamo il nuovo vlog comunque ragazzi mi sono comprato un giocatore aspetta, ho fatto il trasferimento per quanto dall'atletico bocobibao, raga aspettate raga che trattiamo qui, perchè Antonelli non voglio svendere assolutamente i miei di 8 milioni vediamo che ci dice 6 milioni contro offerta 7 7 del vostro no, mi dispiace, no, rifiuta raga perchè era troppo cioè, non voglio svendere i miei cento così per un milione non mi piace proprio fare questa roba, raga comunque ragazzi per sciacomo buona da real 27 milioni posso chiedere pure 39 raga trattiamo allora perchè 27 milioni e 83 gli offro 40 milioni vediamo che ci dicono 40 milioni e mezzo 40 milioni e mezzo vediamo che ci secondo me non accetto 25 contro offerta 30 30 31 e mezzo 28 accetto raga accetto a meno raga ci possiamo comprare alcuni giocatori raga perchè Bonaventura non è nei miei piani poi mi serve un altro centrocampista quindi raga non è a caso nostro ok raga comunque raga non mi interessa non mi interessa andiamo a fare sta Mano e Locatelli per quanto 10 milioni accetto raga poi non c'è quanti soldi abbiamo 26 milioni se ci si farà un grande acquisto raga raga abbiamo 52 milioni io vorrei fare una trattativa per a a Vidal Vidal raga Vidal Vidal vediamo che ci dice Arturo Vidal anche raga se è vecchio però 3 anni me le può fare hai anche trascinatori quindi un po' di anni me le può fare quindi andiamo a trattare perché mi serve anche a parte che ho inserito altre cose ok raga 45 milioni ok Vidal se mi compra Vidal raga sarebbe un colpo ok raga Arturo Vidal è nostro Arturo Vidal Vidal è nostro raga Vidal comunque ragazzi giovani titolari noi ci vediamo in campo e spero che questo video vi piaccia perché ragazzi se questo video raggiunge i 3 like facciamo un altro video comunque ragazzi facciamo gli allenamenti ok ragazzi incomincia la partita allora ma appena passa perché si sergi roberto perché si raga giochiamo semplice Arturo Vidal esordio di Vidal raga debutto giocatore attenzione attenzione cordaz raga cordaz mi piace come gioca nel crotone sergi roberto per biglia mappè la passa per rodriguez Arturo Arturo Vidal Vidal per mappè mappè prova con il sinistro mappè mamma mia mappè super giocatore raga abbiamo fatto bene raga mappè è troppo forte stiamo esperto qui è difficile mamma mia troppo forte mappè primo gol in calcio a di mappè Vidal attenzione la passa per rodriguez Arturo Vidal per roberto per mappè scusate raga suso Vidal la metti in mezzo schifo di cross Vidal mappè la passa per Vidal lo scambio mamma mia Vidal per un soffio sta facendo pure il gol come è fuori raga Isai attenzione per per suso mappè mamma mia per poco raga ma ci siamo sempre noi raga con suso ci va suso lo batte a Vidal per un millimetro Vidal la passa perché si mappè per suso mappè attenzione ragazzi sergi roberto non riesce a prenderla toplo lungo attenzione ma ci siamo sempre noi due minuti di recupero Vidal Vidal fino in fondo Vidal Vidal ok raga attenzione suso ci va suso suso Vidal magia ci prova con il sinistro suso ci provo comunque ragazzi finisce il primo tempo ragazzi scusate che faccio tutti i sitagli raga ma non voglio che viene un video troppo lungo quindi cerco di riprendere tutto quello che posso comunque isco isgo baber is isgo bubindir mubindir isgo isgo prendiamola raga prendiamola ragazzi bonucci dobbiamo chiuderla dobbiamo chiuderla sai per serci roberto che si raga raga attenzione stoian raga stoian larin raga ci sta la palla meno male donna roma che non lo puoi bloccare in questi tiri meno male teniamocelo un po' raga il possesso che dopo raga dopo questo video cambiamo modulo ci compriamo bologna münner attenzione biglia la mette per sergi roberto se la mette per video no raga l'avevo visto dentro questa c'è raga l'avevo vista dentro cambia cambia ragazzi cambia dobbiamo far entrare forze fresche come poi come l'ho detto romagnoli entra a posto di usai ok basta raga perché non voglio fare molte sostituzioni se no andiamo alla deriva suso la prende per vidal che si per romagnoli biglia che si per vidal mappè se lo mette mappè super goal di mappè raga che bel giocatore bellissimo giocatore meno male che ce lo siamo comprati raga vidal vidal attenzione per romagnoli romagnoli per vidal 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 non ancora ci siamo sempre noi mamma mia raga attenzione forse ci siamo noi infatti ci siamo sempre noi vidal la passa per sergi col tacco biglia attenzione mappè per sergi roberto mamma mia che goal che goal raga non ci voglio credere qui secondo me c'è stata la deviazione raga secondo me perché ho visto una strada tar 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 non so parlare comunque raga guardate si deviazione deviazione del portiere raga siamo troppo forti a parte che è crotone quindi vabbè raga però questo è l'inizio quindi ci saranno squadre ancora più forti dopo comunque ragazzi siamo sempre rodent 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 meno male meno male ragazzi messo giù isco ci sta vidal no raga però vidal è forte anche se a 30 anni ha sempre il suo potenziale mamma mia meno male stiamo soffrendo stiamo soffrendo anche se stiamo 3 a 0 raga dobbiamo a meno 4 a 0 4 a 0 raga voglio 4 a 0 attenzione mappe 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 voglio fare la tipetta con sto giocatore non ci sta meno 2 minuti di recupero raga musacchio musacchio biglia la prende per serci roberto per mappe mappe mamma mia super giocatore tipetta di mappe 4 a 0 sono 4 a 0 raga voglio voglio 3 like raga voglio 4 like voglio 4 non vi sape niente raga che azione solo per questo cioè che azione con deviazione pure del portiere oggi siamo comprati anche un giocatore molti colpi raga sto facendo già perché a me mi piace fare i colpi raga raga mamma mia vital mappe esercito aperto è il gol più bello cioè tripletta tipletta che è sta roba finisce qui raga 4 a 0 mamma mia partita devastante raga comunque raga poteva anche finire poteva anche finire non so che cosa ma doveva anche finire 5 a 0 raga ma sicuro mamma mia mamma mia raga super super attenzione ragazzi achiliano perera raga attenzione che siamo al secondo posto la razza sta al 1 ci manca solo un punto tanto raga nel prossimo episodio faremo tutti raga io mi sistemi 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 mi rompo questa formazione raga ma raga comunque il nostro obiettivo è andare in Champions League comunque raga facciamo solo gli allenamenti poi chiudo allora raga vi faccio preparare comunque ragazzi facciamo gli allenamenti e poi posso chiudere con bellezza raga perché raga c'è 3 punti raga nel prossimo episodio giocheremo vediamo cash quara budget stipendi comunque raga l'Inter si è fermata vediamo chi dobbiamo giocare comunque raga secondo me interromperò con il Cagliari stare in casa quindi farò la partita contro la Lazio che è la più importante che è per salire al primo posto quindi ragazzi spero questo video vi sia piaciuto un mi piace anche commento e se non sono iscritti ci vedete noi ci vediamo in prossimo video bella ragazzi se vi lo volete seguire su facebook seguitemi e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi ciao